Benvenuti a me che accompagni in guerra, sono Zrax e questo nuovo video è la finale, è la finale come vi raccontro i Fearless Paladins Dopo aver vinto l'ultima partita, wow, sono sentito a 2000, invece Blueface non ho ancora giocato la partita Allora, cominciamo Uff, è la finale, tranquilli, buoni Non passiamo per niente, non passiamo per niente Compramoi, quattro tempo? Cinque tempo un po' l'ora Un modifico anche un po' è stissima Ok, ma C'è una cosa che ho trovato? Ora Ah, no Porca trova, di nuovo abbiamo La sfiga di non... Oh, mamma mia Oh, diamine Sarà come una partita di prima Ovvero, cioè, per l'altra volta Ovvero senza possibili... Cioè, avremo un punto Forse un punto, forse due, non lo so Forse un punto, eh, un punto di tirato, forse Un punto di tirato, forse O forse zero, perché da ora hanno tipo, non so quanto Uff, porca miseria Andaci, dove siamo? Ah, casa nostra, Zass e Costadio Uff, contro Il Free Spare, non so che si contro il Free Spare Mamma mia Cominciamo, finale, perfetta Sì Wow, mamma mia Cominciamo allora Ok, da quello che Questa mamma mia Mettiamolo qua Ah, questo è il Free Spare Ah, questo è il Free Spare Dove è che c'è quell'altro? No, White Scooter Eccolo Qua sono due Ma dove c'è quell'altro, no? Ok, mettiamo così Difendiamo come possiamo Ci sono altri che hanno, no? Ci sono altri che hanno, no? Mettiamo così Ok Ehm Va ben così Ok, così si è, mettiamo qua Mettiamola qua Ti prego Ti prego Oh Allora, allora, aspetta, aspetta, aspetta Uno qua 60% Sì Sì, andiamo di qua Uff, per fortuna Ok No, sei No Questa Questa no Questa no Questa no Questa no Troppo Ok Ti prego Oh, perfetto Questa no Questa no Mettiamolo qua E l'altro mettiamolo Qua Eh, va bene E questo invece carichiamo questo bastardo qua Ma O 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 Ok, mi muovo verso di qua Così dando spazio Anche main block, quindi Fortuna a me Dimmi di sì Sì a portarmi via Quarto capitolo Scherzo Ok, abbiamo Fatto tutto il che devo fare Eh, abbiamo fatto uno Ma Palla è la Adesso Come la mettiamo Potremmo già fare il touchdown Cavolo Con lui c'è, basta Con lui Mind blow Questo ha più una forza Questo dimmi che è Una guardia Questa guardia Spinta Voi spiegherò Ecco Va bene Così tranquillo Come cavolo è possibile Vabbè picchiamo sto qua Vabbè Becchiamo così Spinta Mamma mia Che culo che ho Ma la proesia Vabbè, vabbè La mia come questa 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 Cacchio Com'è possibile che ha avuto Pug Nuo', come questa 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 Spinta BNow Spinta Allora 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 ok quello per terra qualsiasi si muove fino a qua siamo fino a qua per disturbare il giocatore allora si rialza incredibile oppa eh sì mai scherzare con break cut mettiamolo di là come è possibile non si può togliere ok mettiamole qua uno qua e uno qua cioè non per dire siamo là bloccati e la cosa possiamo fare allora perché mai ho oppa perfetto spinta no no lo seguiamo perché mai ho più non posso dire no non posso ah ma c'è uno qua c'era uno qua non mi ho accorto che c'era uno qua c'è c'è adesso la par c'è non mi ho accorto neppure che c'era uno qua quindi scusate questa guardia non nessuna guardia offender oh watch scappò il nostro mio giocatore capò non mi ho accorto neppure che c'è toccano di nuovo loro cosa fanno questo più uno questo metodo troppo forse più spinta specchio questo è tutto provate le balle a loro face questo ranger è diventato come se fosse spingare un'errore a loro ok sto nato a merda ok 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 no so spixty sepposini un po' questo fa male se cazzo se questo voglio break cut questo è un attivo non cattivo cattivo più io come posso fare qua portiamolo qua ok un'altra per terra stonato ok mettiamo si si ok dov'è quella quell'altro idiota no lo seguiamo stavo qua ok se poi andare fino a qua se non è fino a qua oppa ce la fa ok 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 c'è proprio questo ok ho saputo una cosa credo no prende la palla e qua e qua bravo oppa perfetto grande mamma mia passaggi da oscar ok veramente prima volta che il gioco così cioè passando vediamo cosa fanno allora sono un infortunato tanto tu sei il prossimo vediamo cosa fanno però chi è questo quello che è quello che è ufff spinta spinta no vediamo vai bravo spinta ancora cioè spinta oppa allora ci sei uno veloce ok se si alza si fa male aspetta non questo ne ho qua non voglio rischiare perchè è infortunato quello è più forte di me anche ok oppa ci sposto pure grande passamola ok niente da fare non va capò così il campo arriva per lui ci arriva fino là no quindi portiamolo no portiamolo qua anzi portiamolo qua un po' portiamolo portiamolo qua ok guarda più un forzo più uno vedrà questo un po' spiega più uno eh proviamola va spacca touch touch down touch attach hinter ta 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 la seco Ein beta blade segna non c'è non c'è scusa mamma mia come si fa dai come va più uno è un fortunato non c'è scusa c'è un fortunato punto e basta mamma mia dai voci se non puoi fare questo sempre vicino aspetta non mi no non mi dire no ti prego non mi dire che ho messo aspetta non mi dire che ho messo ah cacchio dove la palla chi c'è la palla? ah c'è lui c'è lui la palla ah dai che facciamo male dai che facciamo male come sempre ma te carico c'è non più che te carico te carico proprio di brutto uff vediamo teca 2 non credo che proprio ok ma spinta spinta aia dai non farti male dai dai non riesco dai dai cacchio dai cacchio dai cacchio dai c'è da me quello dai c'è da me quello dai cacchio tutti alzi facciamo un porto qua difendiamo difendiamo mettiamci qua quanto d'altro? facciamo uova per fortuna portiamo qua difendiamo come possiamo facciamo devastare il turno ok così ora si non serve si serve portiamo là oppa spingiamo lui di la di la poi ci portiamo vicino attraverso 4 per qua si mette ma non forte qua va bene fine turno quarto turno cosa fanno questo no qui si è più uno dai 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 tutta 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 o manfo non suonato spinta normale ho visto cosa fanno sono un pochino incuriosito cosa fanno dai non esiste ancora un po' io ho detto tutto dopo toccare a noi non sotto uno aia spinta ah è anche livellato è una solita di the blade cosa fa cosa fa è anche livellato non mi sono aah che culo di merda si muove di la si muove di la non so se sia una buona ah caca che l'ha spionato quasi beccato quelle stronze spinta non so se vediamo cosa fanno loro blocco 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 spinta vediamo se riesco con lui andare fino là spinta ok ci hanno bloccato prima cominciamo con lui te va qua e io ti seguo e io ti seguo dai cacchio ehm dopo spostiamo la e non lo seguo mmm allora boh se rialza va male allora spostiamo lui qua difendiamo come mi piace come riusciamo io credo che l'opposizione non non vedo la si parla e non lo spostiamo no spostiamo proprio e non lo spostiamo non lo spostiamo ma anche mettiamoci qua ok aah 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 ok eccoci qua così e l'ultimo viene qua e lo carico perfetto dai porco la parla come l'ho detto stonato come l'ho detto ma almeno la parla è là quindi non si muove ma il po' metterò anche schivata e più forza più uno così non è possibile fare male questo l'ho fatto 5 o 6 e dove fanno? dai dai te la due come cavolo dolce di là da parte devo farmare più questi qua questi sono quelli più importanti che devo far male perché il motivo dato che spinta ok così ho questo libero aia ma non ho anche non c'è no stonato ok adesso spinta non è spinto allora se riesco a mettere porca troia a se se sotto uno vediamo se riusciamo a mettere così in chiaro ho fatto volevo caricare ma non so se c'era fino là metterò che guardia anche lui oh spinta la e dove dopo dove mi passi c'è just one more stop chelta dai mette ansia sta roba la finale mette ansia purva calore se dove va dove te va spinta di là ok adesso posso anche caricarlo e devo vedere se quel bastardo va spinta allora te ti alzi te te va qua ma non poi te alzi allora andiamo qua facciamo quello che devo fare vediamo se riusciamo almeno vediamo se mettiamoci qua perfetto abbiamo spinta la non lo seguiamo vediamoci qua mettiamoci qua e blocchiamo la 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 soldatissima ok no perfetto buttiamo la non lo seguiamo a volte è meglio con il fuorice quello oh facciate oh perfetto è Perfetto, Fendt, vai di là. Dai, Rokas! Ah. No, che bisogna che lo porto un asse. Ok, adesso... Abbastanza persone infortunate, sei infrontate per terra. E cosa fanno? Devo non essere qui cosa fanno, perché ho questo qua. Per girarti quell'altro... Manca sette... sette motuno. Sì, sette motuno a loro. Sì, scusate, mi sono confuso con i stemmi. Allora, coca... Come è possibile che... ero scusate... confuso. Sapete com'è? La finale finale. Oh, carica sulla Gita 4. Perché non mi sto schivando? Non si è meglio, no? C'è un quello... Spinta! Nada! Nada, amico mio! Adesso ho fatto già il giro per tornare... Spinta! Dove? Di là? Noi siamo certi? Sicuri? Certo per cento? Di nuovo, di nuovo... Il grande uno può riuscire a riuscire a riuscire a fare un'opera di questo spazio? Dai... Ah, come... Non lo so questo qua... Non lo so questo qua... Ehm... Ok... Non lo seguo... Dai, cacchio infortunio! Blitz... Si, ci va adesso... Uh... Si... Mindblow! Perfetto! Ok, mettiamo qua... Mettiamo uno qua... Facendo una tipo una... Basetto... Beh... Ehm... Uno qua... Uno qua... Non sono solo quindi... Oh... Perfetto! Seguiamolo... Quanto ha fatto? Come è strunato! Oh... Dio... Quanto odio... Favrose! Oppa! Tutto è strunato! Dai! Si è solo, è solo... Il tipo è solo! Compaio di guerra! Seguiamolo di guerra! Questo è strunato! Spinta! Non so perché... Quella... Quel culo... Dice... Wow! Eccomi vicino! Sono sott... No tre! Cosa vuoi? Cosa vuoi te? Ah! Che culo di merda! Un altro... Un altro... Uff... Ok... Qua arriva... No... L'ultimo tunnel è loro! L'ultimo tunnel è loro! Ahia! Che dolor! Che dolor! Mamma mia! L'Ikut! No! L'Ikut no! Non infortuna! L'Ikut no! Oh! Si! Sì! Non vuole nessuna infortunata! Cacchio! Indiame! spinto ma tu sai che ti stai adentrando in una nostra perfetto si vado alla tranquillo padova vediamolo e scappiamo via se riusciamo parlare da tanto rompito fine primo tempo meccanola e non succede allora 1 0 perso iso secco l'obbligo di svegli sto non so l'infortunato allora la testa che c'è notizie trovo sempre anche un'automobile o o allora usiamo nostro posto ticato Vai a destra che è meglio. Perché questo qua è qua? Porca troia. Dov'è quell'altro che ha... No. Eccolo. No. Merda. Ecco. Questo. Sì, questa è la mia natura. Allora, mettiamo tutto a sinistra. Mi ha giocato che qua, allora. Che ha preso anche uno, cioè... Allora qua. Ok. Dove ti ha la palla. Sì, guardami. Ah, che che. Sono appena la palla. Oh, perfetto, grazie. Ho proprio la palla. Ho proprio la palla. Che appena la palla. Oh, cacchio. S.S.P. che ci sfondano le cose. Ecco, la sorpresa. Ma ti ho preso, cioè, ti ho preso. Ci sfondano e vi hai il fattore sorpresa. Almeno 2-0, così sono più felice. Adesso Neji e Rakash sono schiena. Tega 2. Cazzo, non sarà. 1-1, non sarà. Vaia. Cacchio, porca troia. Sto, mamma mia, ecco. Questo sbaglio sto facendo sempre io. Sul GKP. Adesso facciamo terzo. Sto, miro' dei giudini. Ma oggi andiamo come. Sto facendo. Sto facendo. Sto facendo. Sto facendo. Sto facendo. Porca troia, alziamoci, vado qua che arrivi, ok Aspettate Qua Opa Questa volta andiamo di qua Cavolo, potremmo già vincere questa partita e già mettere e chiudere tutto Ok Questa volta manca Mettiamo là, non lo seguiamo Ok, perfetto Blocchiamo non da Quanto, nessuna parte non da Caccia come è successo, è un senso un pochino più forte Mettere Vediamo se fanno Tutti sono lì, mi sa che mi faranno male Vediamo se fanno Tutti sono Dai 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 Questa è molto dura Questa è la Spinta La spingirà Si noterà impossibile quell'altro Ok, mi sa che oggi è infortunato Likud No, neanche No, neanche Likud Non è infortunato Ok Alziamo il nostro Spingiamolo Spingiamolo qua Non lo seguiamo Portiamolo qua Anche Anche Un esertore Ok Perfetto Adesso possiamo D'accordo No Perfetto Con Nel Un'eserro 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 Up published Un'eserro 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 Non Un'eserro Sur Pandemie Un'eserro Un'eserro Potevo già fare il touchdown, o volo fino a di là, così sto tornando, provo a fare arriva lui, che carica come una bestia, vediamo cosa fanno, perché Onesi e Rakash qua che stanno, stanno parlando con il naso, non vogliono stare, questo non è, perché caricarlo, scusate, cioè, così sto, perché caricarlo, non c'è, non avrebbe senso, ma vabbè, non capisco di, ok, allora, allora, carichiamo, facciamole male, Si, dai, no, stornato, portiamolo qua, dai fino a qua, no, Ok, oh cazzo, è quello che non ha niente, diamo, adesso mi sono accorto Questa può, ci dai, fino a qua, qui mettiamolo qua, D'altro, vediamo se lo possiamo fare qua, Spinta, oh, di qua, Questa cosa è, Rakash, perfetto, Rakash, Ah, no, Rakash, cazzo, 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 adesso come mettiamo adesso, Dovicesimo turno, cosa fanno questi amici, perché sto facendo strage, cioè, sono dei misi strage, ecco, quella si metterà, Se riesco a fare questo, questo qua, è, perfetto, perfetto, perché io, metterò blocco, cosi non si blocco, non, non si fa male tanto, offende, blocco meglio, blocco meglio, C'è la viola? Non è un posto giusto per finire il tuo turno sulla borda della piazza. Se il player si riuscita in un clou... ...dora... 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 Ok... ...ok... ...dora... No... L'Hsh... ...buono... Uff... ... ...allora, vediamo come la persona... ... ...non ci va... ...no... ...da stare... Ho sentito scherzato su il piede o la pelle... ...neve calmar il muro... vediamo se possiamo andare se ci vado cosi corna andiamo ok non ho la difesa non così stiamo nonno Femme, mettiamo un po' di qua. Non mi dico che è Attacker. No. No, non posso. Perfetto. Perfetto. Buttiamola. Dai cacchio. Cavolo. Due minuti. Possiamo farcela, possiamo farcela. Questa cosa ha fatto. Volevo spingere sto qua da l'altra parte, ma vedendo che è da di là, ho detto no cazzo, cioè non facciamolo. Non c'è nè fuori, non c'è nè fuori, dai dai dai. Aia. Perché di là? Aia. Che dolore. Dolore. È strunato poi, nooo. 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 Ecco. Non sa, lui farà male. Oppa. Niente. Stronato. Vediamo cosa c'è, niente. Cosa fa, c'è. Uff. Dai. Mi fa stare, cioè... Aia. Aia. Uff. Ok. Ha liberato un spazio. Sei razzato. Ma non so se... Nooo. Cazzo, è una doppia questa. Vediamolo. Dai. Portiamolo qua. O. Cazzo. No, no. No. No rischiamo. Dai. Ok. Portiamolo qua. O. O. Cazzo. O. Cazzo. Ok. Ok. Dai, prendiamoci... Oh. Perfetto. A me ora abbiamo qualcuno che ci aiuta. E' stoca. Escaven iscaven. Adesso ci aiuta. Oh, vola, vola, vola. Non lo seguiamo. Cacchio. Eh, zia, ma stanno. Sono mogliate adesso. Cosa mettiamo? Adesso non ho niente a fare. A parte aspettare. Uff. L'ho avuto fuori sto me, l'ho avuto fuori. Appena mi... C'è la possibilità che si arricchierà. L'ho messo perfetto, l'ho messo meglio. Quanto mancava per armatura? Questo è... No... Ho fatto 5, ma... Su 8 per... Porca, tra le... E Breakout che non si ha... Non... Cioè, ha fatto l'infortunio? Basta, finito. Breakout. Finish. E anche sto ragando un pochino. No, ragando. Non è finito quell'altro? Ah, è tornato da tua parte. Dai. No, non è finito che c'è nel mio giro di spettare. No, non è finito. Diかった. spinta ah cacca uff se per la andiamene e pensavo che che culo che tu mando o no cavolo culo allora forsevolo qua eh no forsevolo oh sfiorato che basterdo allora non lo seguiamo quindi niente non 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 no no tutto la parola non 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 vediamo vediamo ti prego perfetto 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 ma non puoi sempre essere mi abbiato parca troia bastarda no no cazzazzate le due non 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 per il cacchio di svegliarti e amine ti prego fa che fend uff stup trattato per cento per prendere la porta tra lento grazie come ciò occhi lo carico spinta svegliati ho messo questo come l'ho detto andiamo in carica tanto 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 quanto oppa mi sta lagando non lagarmi adesso andiamo qua così uno per uno andiamo di qua ho avuto avuto un vero attacchio no ma invece e invece questo carichiamo carica bella carica dai si lo seguiamo e in questi ambienti che odio perchè non ho fatto tutto qua ma con tu no? e la nostra cosa qua è incavolato sempre aia brutta storia boh è finita è finita è finita dai è ultimo turno ultimo turno dai dai è finita 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 dai finisci finisci FEND ti amo dai Oh, come se? Non lo so! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Dov'è che la manchi? Non lo so! Uhhh! Go through it! Cadi! Cadi! E' finita! E' finita. 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 I slag si convincono. I slag si convincono. No, la crash sta diff... No, per... Perchè la crash? Per fortuna. Dai. E' finita. E' finita. I slag si convincono la partita. Vincono la partita. Mi compagno in guerra. E' sempre Giambich con la posizione. Oh, diametro. Sono stracontento. Stracontento, mi compagno in guerra. Oh, eccoci qua. Sei mio. Guarda, chi è il mio giocatore? Allora. Lidlotto. Knimut. Hell. Due. Brekut. Cinque. Uff. No, alcuna. Aspetta, è la 2010. Ecco. Ehm. Vediamo qua. Chi è il suo livello? Eh, si. Proprio lui. Vediamo. Tipo mutazione. Questa è mutazione. Perfetta. Oh. Mutazione. Allora. Aspetta, 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 aspetta. Ehm. Allora. Mmhm. Beh. Disturbing. No. Agilità. Forza. Alluminato anche. Boh. Blocco messo per sinistra. Presa sicura. Jump. Sprint. Forza. Anche per non mettere i leader? No. Ehm. Mutazione. Un... Un.. Un . Un... Un catacolo. Un... Un?... Un... Un. 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 questo mi servirebbe two hands non so sicuro non so sicuro dodge più più uno dodge oppure agilità ma usiamo due teste così ha più possibile di scappar via oppure sprint di boh mettiamo due teste perché non più due teste boh boh vabbè ok mi compare guerra ok dov'è tutto questo non è senso atti massi di freddo e freddo on quattro as justin giurata ossa per subito bene no no allora mi come guarda cosa sotto spero che sia stata partita questa stagione che sto facendo con i mi usasse il costo vado perfettamente bene e niente, sono stra contento che mi guardate che ho chiusi via, che vado a scalare con una bustana detto questo mi ha compagni guerra se volete che continui a fare brawl ball la quarta stagione oppure prenda fallout o cominci a fare un altro gioco basta scrivere sotto i commenti ci si vede al prossimo video ciao